In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur. Maria Sede Sapientiae, ora pro nobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, libro primo, capo diciannovesimo, degli esercizi di un buon religioso. La vita di un buon religioso deve risplendere di tutte le virtù, affinché sia tale al di dentro quale appare al di fuori. E veramente deve esservi dentro molto più di quello che si vede al di fuori, poiché chi vede dentro è Dio, al quale noi dobbiamo somma riverenza dovunque ci troviamo, e dal cui cospetto dobbiamo camminare mondi come angeli. Ogni giorno dobbiamo rinnovare il nostro proponimento ed ecitarci al fervore, come se per la prima volta in quel giorno fossimo venuti a conversione, e dire aiutami, o Signore Dio, nei buoni propositi e nel tuo santo servizio, e concedimi che io cominci perfettamente quest'oggi, in questo istante, perché è nulla quanto feci sinora. Il nostro profitto procede in ragione della saldezza della nostra risoluzione, e da chi vuole progredire bene è necessaria molta diligenza. Se spesso manca colui che fortemente propone, che sarà di colui che propone di rado o debolmente? In vari modi però avviene che abbandoniamo il nostro proposito, ed ogni lieve trascuranza di spirituali esercizi difficilmente passa senza danno. Il proponimento dei giusti più che dalla sapienza propria dipende dalla grazia di Dio, nel quale sempre confidano qualunque cosa essi facciano, poiché l'uomo propone, ma Dio dispone, e la via dell'uomo non è in sua mano. Se talora si tralascia l'esercizio consueto, per motivo di pietà, o con intenzione di essere utile al prossimo, facilmente potrà l'omissione venire riparata dopo. Ma se di leggeri si tralascia per noia o negligenza, l'omissione è colpevole e se ne sentirà danno. Sforziamoci quanto possiamo, mancheremo tuttavia assai facilmente in molte cose. Però si deve sempre proporre alcun che è di preciso, principalmente contro quelle cose che ci sono di maggiore impedimento. Dobbiamo scrutare ed ordinare con egual cura le cose nostre esteriori e le interiori, perché le une e le altre giovano all'avanzamento. Se non puoi raccoglierti di continuo, fallo almeno di quando in quando, e perlomeno due volte al giorno, la mattina cioè e la sera. Al mattino proponi, alla sera esamina bene i tuoi costumi, quale fosti lungo il giorno, nella parola, nell'opera e nel pensiero, perché in tutto questo hai forse spesse volte offeso il Dio e il prossimo. Armati come uomo virile contro le diaboliche nequizie, frena la gola e frenerai più facilmente ogni inclinazione della carne. Non instar mai interamente ozioso, ma leggi o scrivi o prega o medita o fa qualche cosa per bene generale, perché gli esercizi corporali debbono farsi con discrezioni. Però gli esercizi corporali debbono farsi con discrezione, e non da tutti nello stesso modo. Le cose che non entrano nei doveri comuni non debbono ostentarsi al di fuori. Ciò che è particolare a ciascuno si fa più sicuramente in segreto. Conviene tuttavia badare che tu non sia pigro alle cose comuni e pronto alle particolari. Ma adempite per intero e fedelmente le cose di dovere, se avanza tempo, renditi a te stesso secondo che desidera la tua devozione. Non a tutti conviene un medesimo esercizio, ma uno si adatta meglio a questo, un altro a quello. Gli esercizi vogliono ancora diversificare secondo il tempo, giacché altri si gustano di più nei giorni festivi, altri nei feriali. Di altri abbisogniamo nel tempo della tentazione, di altri nel tempo della pace e della quiete. Altre sono le cose cui giova a pensare quando ci troviamo mesti, altre quando siamo lieti nel Signore. Nelle feste principali dobbiamo rinnovare i buoni esercizi e più ferventemente implorare l'intercessione dei Santi. Dobbiamo far proponimenti da una festa all'altra, come se dovessimo allora partire da questa vita e giungere alla festa eterna. Perciò nei tempi devoti dobbiamo prepararci con sollecitudine e vivere più fervidamente e più strettamente osservare tutti i nostri doveri, come in procinto di ricevere da Dio il premio della nostra fatica. E se questo vi è indifferito, crediamoci non ben preparati, ma ancora indegni di tanta gloria che si manifesterà in noi al tempo prefisso e studiamoci di meglio parecchiarci a morire. Beato quel servo, dice l'Evangelista Luca, che il padrone al suo venire troverà vigilante. In verità vi dico, Egli lo stabilirà sopra tutti i Suoi beni. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.